Ma chi è Ettore Maiorana? Ettore Maiorana, nato a Catania il 5 agosto 1906, è stato un fisico italiano, operò principalmente come teorico della fisica all'interno del gruppo di fisici noto come i ragazzi di Via Pannisperna. Le sue opere più importanti hanno riguardato la fisica nucleare e la meccanica quantistica relativistica, con particolari applicazioni nella teoria dei neutrini. La sua improvvisa e misteriosa scomparsa, avvenuta nella primavera del 1938, suscitò numerose speculazioni riguardo al possibile suicidio o allontanamento volontario e alle sue reali motivazioni, a causa anche della sua personalità e fama di geniale fisico teorico.